Tre gli sbarchi autonomi, 43 bengalesi, eritrei ed egiziani sono giunti direttamente al molo commerciale, altri 45 egiziani a molo madonnina, altri 68 sono invece sbarcati in contrada madonna nei pressi del santuario. Continua l'emergenza sbarchi all'isola di Lampedusa dove in una sola notte sono arrivati oltre 10 barconi con quasi 600 persone. A bloccare i primi due gruppi sono stati militari della guardia di finanza, il terzo è stato intercettato e fermato dai carabinieri. Fra i gruppi soccorsi su un barchino di 6 metri, assieme a 24 tunisini tra cui due donne e 5 minori c'era anche un cane. Tutti i migranti sono stati portati all'hotspot di contrada in Bria-Cola, due i fronti aperti dai quali continuano a salpare verso la Sicilia, barchini e barconi carichi di migranti, quello tunisino e quello libico. I dieci natanti con un minimo di 11 e un massimo di 117 passeggeri giunti a partire da Mezzanotte a Lampedusa sono salpati da Madia, Sidi, Mansur, Zazis in Tunisia e da Zouara, 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 Zebrata, Saborata, Zaira in Libia. I carabinieri hanno accertato per lo sbarco autonomo registrato si incontrà da Madonna nei pressi del santuario che i 68 egiziani e bengalesi hanno pagato da 15.000 a 20.000 dinari libici a testa per essere portati a bordo della barca di 6 metri che per aggiungere a Lampedusa da Zouara ha impiegato 15 tanniche da 20 litri di carburante.